grazie grazie se provate su social orario del fan3m posto di video un po' di video e poi lo comincia da prendere ehm quindi stavamo dicendo parlavamo di stile e di genere e non ho sposto a sposto vai grazie e quindi ho passato gli ultimi 25 anni abbondati a fare una cosa completamente diversa da tex che mi ha occupato gli ultimi due quindi anche una rossa sproporzione ecco l'obiettivo di cui parlava buco, cioè questa semplicità come era la facilità di ottenere determinati risultati con uno sforzo diciamo apparentemente limitato è una cosa che si conquista con il tempo anche prima che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto è una cosa che si che mi ha detto è una cosa Ora, affrontare una cosa differente non è così molto facile, ma non è un impegno profissional. La persona è fatta scienza, l'acquitetura normale, la tecnologia, tutto il contrario. Perché lavorare con la ficzione scientifica, che è una cosa completamente differente dal Vello Oeste, ma si deve servire come profissional. Si, apparentemente la fatta scienza è molto più complicata rispetto al Vello Oeste. Ma che dire? Tutta una serie di cose da immaginare e poi realizzare. La ficzione scientifica è ben differente dal Vello Oeste, che è un mondo di cose per inventare e creare. Perché tra noi, la ficzione scientifica, sono cose che non esistono e che hanno bisogno di inventare. E già il Vello Oeste esiste.